Ciao grandissimi, benvenuti su Fustories, io sono Leo, oggi sono qui per raccontarvi diciamo di un nuovo progetto che ho intenzione di fare riguarda gli agrumi diciamo che questo è un po' un video aggiornamento per dirvi un po' quello che ho intenzione di fare con queste piante diciamo che voglio esplorare un po' il mondo degli agrumi da seme, voglio vedere quello che viene fuori voglio vedere come si comportano e quanto ci vuole appunto per farli fruttificare potrebbe essere insomma un percorso relativamente lungo quindi insomma credo che porterò questa serie insomma avanti nel tempo però insomma la cosa che mi interessa capire è se è possibile appunto far crescere una pianta facendola anche fruttificare e avendo magari anche un buon frutto sto piantando davvero tanti tipi di agrumi da seme e voglio proprio vedere se alcuni di questi riescono a portare in fondo magari anche un frutto buono ho intenzione di partire, anzi sono già partito con questo progetto perché voglio vedere quanto c'è di vero appunto di quello che dicono sui forum perché molti dicono eh ma non c'è verso ci vuole 12 anni dagli 8 ai 12 anni per far fruttificare un agrume da seme eh ma non conviene perché magari non ti farà nemmeno frutti eh ma poi magari il frutto se ti viene ti viene poco buono eccetera 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 questo mi ha spinto ancora di più a fare a fare questo questo progetto a iniziare questo progetto perché secondo me è una cosa molto interessante scoprire quali agrumi possono venire tranquillamente anche da seme e per il momento ragazzi ho piantato questi frutti ho piantato il mandarancio una pianta che ormai ha mi sembra quasi tre anni il prossimo anno credo sia il terzo o il quarto non me lo ricordo insomma comunque è una pianta già abbastanza grande eh che eh sembra in procinto di diventare una bella pianta quindi credo che anche questa sia in procinto di fare e cominciare a fare i primi fiori questo lo credo e lo spero ecco poi ho piantato il mandarino che erano dei mandarini che appunto ho preso in Giappone insieme appunto anche ad altri agrumi ora di cui vi parlerò questi sono mandarini che ora hanno un anno perché appunto nel 2020 sono stato a febbraio in Giappone se avete visto anche video insomma sul canale e appunto ho preso questo mandarino e l'ho piantato ora ho tre piante qui fuori e vediamo un po' quello che viene fuori adesso c'ha quasi un anno praticamente poi ho piantato il kaffir lime che è un altro agrume non preso in Giappone però ce l'avevo è una specie di agrume un po' bitorsoluto che più che altro mi hanno utilizzato per le sue foglie nei preparati, nei curry, insomma tutte queste preparazioni un po' più che altro nella cucina thailandese è molto buono ma è molto buono anche la loro buccia e anche il succo insomma utilizzabile magari per fare dei succhi di frutta insomma eccetera eccetera è tutto molto buono quindi questo è un altro agrume che ho individuato e potrebbe diventare potrebbe venire tranquillamente da seme poi lo yuzu che è un altro agrume giapponese che anche questo è completamente pieno di semi all'interno e ho deciso anche questo di piantarlo perché secondo me è un altro agrume che potrebbe senza problemi venire da seme mi sembra c'ho 3-4 piante se non mi sbaglio poi c'ho il daidai che è una sorta di pompelmo amaro giapponese anche questo il sapore è abbastanza buono magari utilizzabile per fare qualche spremuta o cose così non è molto buono da mangiare insomma come un'arancia però utilizzabile magari anche per la buccia insomma c'ha un sapore molto buono sembra quasi quello di un pompelmo poi il kunkwatt che anche questo l'ho preso appunto in Giappone in un negozio che appunto c'aveva queste piante incredibili comprai appunto i frutti all'interno c'era questi semi quindi ho deciso anche questo di piantarlo e questo credo forse sia quello più sicuro da cui verrà il frutto poi ho piantato il limone che avete visto anche sul canale adesso c'ha quasi 3-4 anni forse il prossimo anno forse c'ha 4 anni e poi ho piantato il bergamotto che è un altro agrume che secondo me potrebbe venire da seme che però viene dai bergamotti che compro in Calabria tutti gli anni viene dal Reggio Calabria e spero insomma che anche da questo venga appunto un frutto poi ragazzi adesso proprio adesso ho piantato il K-Lime che è un altro agrume insomma molto interessante è un lime piccolo così tondo non è allungato ovale come il lime tutti conosciamo ma è proprio tondo è un po' più piccolo e insomma è molto saporito e dicono che possa venire anche da seme quindi insomma ho provato a seminare anche questo però insomma come ho detto c'ha 0 anni di vita e anzi 0 mesi perché appunto lo sto seminando adesso stessa cosa per il Thai Tangerine che sarebbe tipo un mandarino thailandese che viene a maturazione verde cioè si può mangiare ancora quando è verde ed è veramente super dolce e anche questo dicono che dovrebbe venire senza problemi da seme e questi insomma sono un po' gli agrumi che ho piantato e alcuni c'hanno un po' più anni alcuni c'hanno un po' meno vedremo a quelli che c'hanno più anni quando riusciranno a fruttificare mi auguro al più presto possibile per vedere un po' già le prime impressioni su quello che verrà fuori comunque a parte questo ragazzi volevo dirvi che ho delle strategie per farli produrre prima parlando con un mio amico vivaista che prima insomma c'aveva tutti una sorta di frutti antichi e aveva anche dei peschi da seme e anche altri frutti insomma da seme e appunto lui mi raccontava che mettendo un vaso molto piccolo alla pianta la pianta decide di solito di entrare in fruttificazione molto prima e questo era quello che riguardava lui mi raccontava per i peschi per queste cose qui già i peschi da seme dopo un anno e mezzo li andavano a frutto e lui mi diceva e secondo lui era per questo motivo qui ovvero che la pianta avendo il vaso piccolo completava lo spazio che c'era appunto a disposizione con le radici e una volta completato lo spazio delle radici la pianta diceva adesso non ce la faccio più a espandermi con le radici allora è il momento giusto per cominciare davvero a fruttificare nel caso contrario cosa succederebbe? succederebbe che la pianta continua a espandersi molto 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 con le radici pensa più a espandere le radici per avere più possibilità di sopravvivere in futuro e naturalmente pensa molto dopo al frutto capite? cioè pensa prima a espandersi a fare una buona diciamo un buon apparato radicale per sopravvivere meglio e poi dopo per fruttificare ancora meglio però chiaramente se te li metti un vasetto molto più piccolo lei dice oh cavolo non c'ho più spazio allora posso cominciare a fare i frutti perché tanto se no rischio di morire in questo poco spazio non mi posso più espandere rischio di morire e quindi posso fare frutti almeno cerco di trovare una soluzione un po' più favorevole e questo diciamo un po' il suo pensiero e sicuramente anche pensandoci potrebbe essere una cosa anche abbastanza sensata infatti io credo proprio di mantenerli in basi anche abbastanza piccoli anche perché non è che ti può permettere di metterli tutti in basi enormi chiaramente perché insomma sono tanti preferisco mantenerli in basi abbastanza piccoli e comunque insomma gli agrumi hanno bisogno anche di acqua quindi è meglio mantenerli in basi più piccoli perché in basi troppo grandi poi la pianta non ci farebbe comunque a eliminare tutta l'acqua quindi è sempre meglio insomma mantenere vasi più piccoli e quindi niente ragazzi insomma questo è un po' il progetto che voglio portare sul canale spero che vi piaccia questo è un progetto che io lo considero praticamente al pari con quello degli avocado è un progetto molto interessante secondo me gli agrumi sono un altro mondo molto molto interessante che mi piace davvero tantissimo quindi ho intenzione di portarlo avanti negli anni proprio qui sul canale almeno insomma anche delle prove ok voglio dimostrare assolutamente che è possibile fare degli agrumi da seme e niente ragazzi insomma se vi è piaciuto il video mi raccomando lasciatemi un like fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questo progetto se vi potrebbe interessare se vi piace se vi piacciono gli agrumi insomma fatemi sapere qui sotto nei commenti poi ragazzi se vi fa piacere naturalmente e non siete ancora iscritti iscrivetevi al canale attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati su tutti i nuovi contenuti che è carico carico davvero tanti tipi di contenuti tutti inerenti al food dalla cucina all'orto ai viaggi insomma tutto quello che gira intorno al cibo lo trovate su foodstories poi ragazzi qui sotto in descrizione trovate il link a tutti i miei social compreso telegram dove appunto potete mandarmi video messaggi foto insomma tutto quello che vi pare naturalmente basta che sia inerente al food e noi ragazzi come sempre ci si vede a un prossimo video sempre qui su foodstories ciao ragazzi ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti